Ben tornato. Oggi è mercoledì 26 gennaio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Rush finale Una giornata impegnativa. Ma la luna dice no. Tutto più complicato coi bimbi a casa in quarantena, maledite il virus e ve la pigliate col governo, che fa le leggi e lascia le gatte da pelare agli altri. Voi per esempio. Ce la state mettendo tutta, ma forse non avete fatto i conti con la doppia quadratura in gioco tra la luna e il binomio sole-mercurio, già contro di voi. A ingarbugliare i vostri programmi può arrivare un malessere estemporaneo oppure un guasto in casa che oltretutto vi salassa il portafoglio, più facile trovare un ago in un pagliaio che un tecnico disponibile. Instabile anche l'umore, basta un'inezia per scatenare proteste emotive, lacrima facile e alzate d'orgoglio a go-go. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare, una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno o a superare una profonda crisi. Cortegiammenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorati di loro che cercheranno di dichiararsi o di rendersi presenti. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora concore verso alcune persone che in fondo vivigliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Benissimo viaggi cose insolite. Sarai curioso e potresti avere una piacevole sorpresa. Fascino. Prendi l'iniziativa in amore e sii docile ad ogni richiesta del cuore. Per alcuni di voi è sconsigliabile uscire per shopping, ci saranno delle spese impreviste e quindi meglio rispaniare in vista di queste. Oggi molte telefonate noiose, non spegnete il cellulare, perché tra le tante potreste riceverne alcune piacevoli e in particolare una importante. Fate in modo che il vostro telefono sia libero. Complicazioni nel dialogo in famiglia, potrebbe accadere anche che vi sentiate incompresi e vorreste mandare all'aria tutto e tutti. Mercurio oggi non è tra i più positivi. Vi sentirete nervosi e agitati, una sottile ansia potrebbe penetrare la vostra anima. Ma niente paura si tratta solo di piccole insoddisfazioni che emergono improvvisamente. Oggi socializzate molto con amici e conoscenti, anche in chat o a telefono. È importante oggi mantenere con tutti un ottimo rapporto. State per cogliere i frutti dell'amore, siate generose con la persona che ha attirato la vostra attenzione. Se lo merita in tutto e per tutto. Bella serata con gli amici oppure con la persona amata, stimoli interessanti, serenità e buon umore. Brillanti successi per molti, specie nei settori legati all'arte e allo spettacolo. In amore sarete meno calmi e disponibili, attente ai comportamenti fuori luogo in grado di rovinare la perfetta intesa con il partner. Se non avete voglia di condividere i vostri sentimenti con le altre persone in questa giornata, sarà il caso di avvertirli e non di escluderi senza dare loro una valida ragione. Ciò che vi pesa di più al momento sono le decisioni, quindi la prima cosa da fare è eliminarli, nel senso di delegarle a qualcun altro, se riguardano i figli, passatele all'altro coniuge, se riguardano il lavoro, che si diano da fare di più i vostri colleghi, voi. Cercate di non andare troppo a fondo nei discorsi in questa giornata, perché potreste ricevere delle brutte sorprese. Luna e Saturno cui si aggiungono anche il Sole e Urano, uniti a Mercurio sono tutti quest'oggi in angolo disarmonico per il Leone. Vi difenderete comunque molto bene e con vigore. C'è in realtà la necessità di farvi avanti in prima persona nel risolvere definitivamente alcune complicazioni che toccano la vostra vita sociale, più altre che ineriscono alla vita familiare. Con energia dinamica e con il classico vostro piglio decisionale, riuscite a trovare efficacemente la soluzione pragmatica, quella più semplice ed efficace, per ogni problema. Cari Leone, in amore c'è dell'agitazione, meglio rilassarsi per 48 ore. Ci sarà tempo per risolvere le varie questioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercati di portare avanti gli accordi con attenzione e calma. Che si tratti di esprimere la tua originalità o dimostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è chi riesci a metterci la tua personalità. Lavorate in tutta tranquillità in questa giornata, perché avrete diverse occasioni nelle quale dimostrare le vostre competenze e mettervi in risalto. Se vi farete prendere dalle ansie o dalle distrazioni invece, ci potrebbero essere dei rallentamenti. Siete più abituati ormai, a dare il meglio, in qualsiasi condizione, perché ne avete passate tante nell'ultimo periodo. Ciò è una risorsa importante, che non va assolutamente sottovalutata. Un bel match oggi tra testa e cuore, sotto tiro della luna in quadratura e del duetto sole-mercurio all'opposizione, coppia e famiglia si portano via parecchia della vostra energia, che invece con Marte passato proprio ieri in sesta casa dovreste dedicare esclusivamente al lavoro, datevi una mossa. Amore ed Eros. Presi da problemi professionali ed economici, l'amore è il vostro ultimo pensiero, a meno che la cotta o la rottura siano recenti, ancora in fase di metabolizzazione. Qualche discussione con il partner su questioni di famiglia o sulla pesantezza delle rispettive madri. Praticamente si equivalgono ma ciascuno dei due difende la propria. State vivendo una relazione importante e appagante. Questa fase positiva vi induce a fare progetti e a pensare ad un futuro insieme. Decisioni importanti in vista. C'è bisogno di tutta la vostra sensibilità e delicatezza per avvicinare la vostra dolce metà che attraversa probabilmente una fase un po' complicata. La vostra generosità vi fa da spalla e vi consente di muovervi ottenendo un sicuro successo, in special modo se siete nati dal 3 al 9 del mese di agosto. I single di luglio siano prudenti nelle loro conquiste amorose e non si lancino in modo impulsivo e senza rete. Lavoro e denaro. Quando siete così obberati, anziché riscuotervi e rendere di più fate l'esatto contrario, vi sedete sui vostri problemi, perdendo tempo prezioso. Qualche qui procuo tra colleghi non contribuisce a rasserenare l'atmosfera, meglio improprio, ma se il grillo parlante non vi sollecita, anche qui rischiate di restare seduti tutto il giorno senza combinare granché. Meno male che le finanze girano alla grande, ricevete buone notizie di pagamento, riscuotete crediti e i vostri investimenti, in barba all'inflazione, filano col vento in poppa. Ogni cosa che state facendo costa fatica, ci sono delle soluzioni a medio termine che possono interessare chi sta pensando di cambiare società o gruppo, oppure di rinnovare la propria condizione lavorativa. Vi arriva una discreta mole di lavoro, che, però, non riuscite a smaltire del tutto nella giornata odierna. Sarà poi nella settimana prossima che darete il massimo, come solo voi sapete fare, concludendo egregiamente questo importante impegno. Benessere. Vitalità eccezionale, ma più che a energia pulita state su ad adrenalina e a eccitazione. Riprova ne sono l'affaticamento e l'emicrania che vi colgono di sorpresa, non appena avete esaurito tutte le cartucce. Abbuffarvi non serve, l'ansia si placa solo temporaneamente, lo stomaco invece rimane pesante e affaticato per un bel po'. Cerca di prestare particolare attenzione alla salute dei tuoi polmoni in questo momento. Consiglio di evitare il fumo. Mangia i piselli che sono ricchi di tiamina, vitamina B1, esattamente ciò di cui hai bisogno per regolare la salute dei tuoi polmoni. Per lei, preoccupate per il vostro cane, meno vivace del solito? Portatelo a spasso nel parco, correre insieme farà bene anche a voi. Per lui, ero sotto tono, la realtà non appaga le vostre incontenibili fantasie. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.